Giù le mani dall'arrosticino e basta imitazioni, la regione punta sull'arrosticino d'Abruzzo-Dop. Una risoluzione che porta la firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia, impegna il Presidente e l'Aggiunta a sostenere il percorso per ottenere la certificazione del prodotto arrosticino d'Abruzzo-Dop, primo passaggio in Commissione Agricoltura. Gli arrosticini in Abruzzo del resto hanno un fatturato che sfiora il miliardo di euro. È un'iniziativa che tende a tutelare un segno distintivo culinario della nostra regione che non ci sono assolutamente delle tutele ad oggi e quindi lo dobbiamo assolutamente tutelare soprattutto per una riscoperta delle nostre tradizioni e della nostra cultura. È ovvio che il percorso è iniziato e non cercheremo di farcelo scippare da altri e soprattutto vogliamo tutelare anche i consumatori perché la maggior parte di questi arrosticini viene prodotta con carni dall'estero e di Abruzzo c'è ben poco. I capi però per la maggior parte arrivano dall'estero perché quelli locali non sono sufficienti e attorno a questo tema c'è in corso una vera e propria guerra economica. Verrecchia però non cede perché per lui l'arrosticina è un simbolo identificativo della regione Abruzzo e della cultura alimentare e agropastorale. Oggi sul mercato ci sono troppe imitazioni che nulla hanno a che vedere con l'arrosticina abruzzese, un riconoscimento che porterebbe beneficio a nuova linfa al settore zootecnico. Dare fiducia sui nostri allevatori che possono iniziare a rinvestire sulle loro attività e creare quel volano economico adeguato. Anche altri prodotti DOP non soddisfano apertamente tutto il mercato però tutelano quella parte di provenienza come in questo caso l'Abruzzo. È ovvio che noi puntiamo anche a rafforzare questa filiera e soprattutto a dare delle garanzie agli abruzzesi, ai nostri allevatori, alla nostra gente e a tutelare quello che può essere un made in Abruzzo che rientra in un made in Italy. La cosa che possiamo fare è anche verificare per venire incontro a quelli che sono i numeri e stendere semmai sulle regioni con termini del percorso della transumanza anche pecore per quanto riguarda il Molise, la Puglia, il Basso Lazio. Non dobbiamo ricorrere necessariamente all'estero dove la qualità è quella che è e il controllo è quello che è.